Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo è previsto per sabato 13 di gennaio. Insiste ancora sulla regione meridionale la perturbazione giunta nella giornata di giovedì. Ma andiamo nei dettagli e come potete vedere nuvole quasi ovunque, piogge su Calabria, Lucania e Sicilia, ancora assenza di nevicate sia sulle Alpi che sugli Appennini, temperature in calo ancora ulteriore al centro nord, invariate e al di sopra della media sulle regioni meridionali. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.